Il 26 giugno scorso la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si era detta esterefatta per la morte del bracciante Satram Singh, abbandonato sanguinante dal suo datore di lavoro con un arto tranciato in un sacchetto. A colpire Meloni era stato il modo atroce, disse, ma ancora di più per l'atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro. Questa è l'Italia peggiore, aggiunse, la piaga del caporalato è tutt'altro che sconfitta nonostante gli impegni di tutti i governi. Ma non intendiamo smettere di combatterlo. Singh è morto da poco più di un mese. Come accade da noi, i controlli carenti per mancanza di risorse e per collusione sono andati comunque in scena per tranquillizzare i cittadini. Giusto il tempo che serve. In provincia di Latina, proprio là dove è scorso il sangue di Satram, i funzionari dell'ispettorato del lavoro, durante le loro visite, incontrano tre lavoratori indiani. Uno di loro, l'unico che parla italiano, racconta di una paga di 3 euro all'ora per 10 ore al giorno. Chini sui campi con un coltellino in mano per raccogliere zucchine. Schiavi, perché senza documenti, come molti altri. I lavoratori erano entrati in Italia regolarmente, prima di finire nelle maglie del caporallato. Ora hanno deciso di denunciare. Ci si aspetterebbe che quei tre siano la leva per l'Italia migliore, quella che non sta zitta e rialza la testa, contro un indegno sistema di sfruttamento che, come dice la Premier, è il lato peggiore del nostro paese. Invece, gli ispettori del Ministero hanno disposto un contratto regolare. Hanno ordinato ai braccianti di pagare contributi e tasse pregresse e poi hanno applicato la legge sull'immigrazione. I tre hanno ricevuto il foglio di espulsione dall'Italia.